Ciao a tutti, in questo video andiamo a vedere come si risolvono le equazioni esponenziali con la sostituzione. Innanzitutto, come faccio a riconoscere che ho un'equazione esponenziale? Ho un uguale che divide un primo membro da un secondo membro e ho la x all'esponente. Non è un'equazione elementare, e se non vi ricordate di cosa si tratta, vi invito a guardare il video precedente, ma è un'equazione un po' più complessa. Come dice la parola, il nostro obiettivo è andare a sostituire qualche cosa, quindi dobbiamo fare in modo di avere una stessa base. Quindi qua ho 3 alla x, ma qui ho 3 alla 2 meno x, non mi piace, quindi lo spezzetto utilizzando la proprietà delle potenze. Per cui questo lo ricopio e questo lo spezzetto usando la moltiplicazione. Se avete visto il video sulle proprietà delle potenze, sapete che quando ho un prodotto con la stessa base, il risultato è dato dalla somma degli esponenti. Ecco perché questa scrittura è identica a questa scrittura. Ora, noto che qua ho 3 alla x e qua ho 3 alla meno x, invece io voglio avere la stessa identica cosa. Quindi, continuo a utilizzare le proprietà delle potenze e ribalto questa base. Questo lo ricopio. 3 alla seconda è 9 e 3 alla meno x diventa 3 alla x portato sotto. Perché vi ricordo che quando ho a elevato a meno qualcosa, posso sempre ribaltare la base e cambiare segno all'esponente. Quindi 3 alla meno x, il 3 da sopra è andato sotto e ho dovuto cambiare segno all'esponente. Quindi ci lo ricopio. E ora sono contenta perché finalmente ho la stessa cosa e posso andare a sostituire al posto di 3 alla x, t. Quindi diventa 6t meno 9 fratto t uguale 15. Faccio l'MCM, quindi moltiplico tutto per t. 6t per t, 6t alla seconda. t diviso t, 1. Quindi ricopio meno 9. t diviso niente t, quindi 15t. Mando via i denominatori e porto tutto al primo membro perché ho ottenuto un'equazione di secondo grado completa. 6t alla seconda lo ricopio. Questo portato al primo membro diventa meno 15t. Meno 9 lo ricopio. Uguale a 0 perché al secondo membro non ho più nulla. Siccome noto che i coefficienti sono tutti multipli di 3, li semplifico in modo tale da applicare la formula con dei calcoli più semplici. E quindi 6 diviso 3, 2t alla seconda. 15 diviso 3, 5t. 9 diviso 3, 3. Se non vi ricordate come si risolvono le equazioni di secondo grado, tranquilli, ho una playlist anche per quello. Andate pure a rivedervela e poi ritornate a questo passaggio. In pratica siamo in un'equazione di secondo grado completa, quindi se vi ricordate dobbiamo applicare la formula risolutiva. Che dice che le risoluzioni sono meno b, quindi meno 5, cambiato di segno, diventa più 5. Più o meno la radice di b alla seconda, quindi 25, meno 4ac, quindi meno 4 per 2, meno 8. meno 8 per meno 3, meno per meno più, 8 per 3, 24. Tutto fratto 2a, a vale 2, quindi 2 per 2, 4. 25 più 24 fa 49, la radice di 49 fa 7, tutto fratto 4. Ora applico i due rami, una volta sommo, una volta sottraggo. 5 meno 7 fa meno 2, meno 2 fratto 4, meno un mezzo. 5 più 7, 12, fratto 4, 3. Ora abbiamo trovato le due soluzioni, ma nell'incognita t, mentre la nostra incognita iniziale è la x. Quindi riscrivo le due soluzioni e vado a sostituire, cioè al posto di t rimetto 3 alla x. Quindi ottengo la prima equazione 3 alla x uguale meno un mezzo, ma per le proprietà delle potenze l'esponenziale deve essere sempre una quantità positiva. Quindi 3 alla x uguale a meno qualche cosa è impossibile. E si scrive così. E si legge, non esiste x appartenente a r. Mentre 3 alla x uguale a 3, qui siamo in un'equazione esponenziale elementare, quelle che abbiamo visto nel video precedente, e quindi dobbiamo uguagliare gli esponenti. Qui l'esponente sottinteso è 1, e quindi uguagliando gli esponenti viene x uguale 1. Ed è la nostra unica soluzione. Come sempre andiamo a vedere un altro esercizio, un pochino più difficile. Anche qui abbiamo un'equazione esponenziale. Il nostro obiettivo è fare in modo di individuare una stessa incognita da poter sostituire. Qui noto che ho un mezzo alla 2x, e qua ho 2 alla x. Se lo riscrivo in maniera più intelligente, viene così. Questo lo ricopio. Questo lo posso scrivere come 12 per un mezzo alla x. Questa scrittura qui è identica a questa, perché 1 alla qualcosa fa sempre 1, e 2 alla x ritorna il 2 alla x che avevo qui sotto al denominatore. Più 32 lo ricopio. Ora mi piace di più perché vado a sostituire t al posto di un mezzo alla x. Per la proprietà delle potenze, un mezzo alla 2x è t alla seconda. Perché? Perché se ci pensate bene, t alla seconda è come dire, questa quantità. E per le proprietà delle potenze devo moltiplicare gli esponenti, quindi 2 per x ritorna 2x. Per cui questa quantità è t alla seconda. 12 lo ricopio, questo è t, più 32 uguale a 0. Di nuovo ho ottenuto un'equazione di secondo grado completa, vado ad applicare la formula risolutiva. Quindi, meno b, meno meno 12 più 12. Più o meno la radice b alla seconda, 12 alla seconda, 144. Meno 4ac, 4 per 1 per 32 fa 128. Tutto fratto 2a. A vale 1, quindi 2 per 1, 2. Quindi viene 12 più o meno, 144 meno 128 fa 16 e la radice di 16 è 4. Tutto fratto 2. Faccio i rami, una volta somma, una volta sottraggo. 12 meno 4, 8. Fratto 2, 4. 12 più 4, 16. Fratto 2, 8. Ora che ho trovato le due soluzioni con l'incognita t, vado a risostituire. Quindi, t uguale a 4 diventa un mezzo alla x uguale 4 e t uguale 8, un mezzo alla x uguale 8. Ora, siamo in un'equazione esponenziale elementare. Il nostro obiettivo è fare in modo che a destra e a sinistra ci sia la stessa identica base. E quindi 4 lo posso pensare come 2 alla seconda. Ma la base è un mezzo, quindi devo ribaltare e cambiare segno. E quindi scrivo un mezzo alla meno 2, perché 4 è 2 alla seconda. Invece di scrivere 2, ho scritto un mezzo, quindi ho ribaltato la base e quindi ho cambiato di segno. A questo punto ho la stessa base a destra e a sinistra, quindi ugualiamo gli esponenti. La prima soluzione è x uguale a meno 2. La seconda, un mezzo alla x lo ricopio. 8 è dato da 2 alla terza. Quindi come prima, invece di 2, scrivo un mezzo. E quindi invece di 3, devo cambiare segno, meno 3. Così facendo, ho la stessa base a destra e a sinistra, quindi ugualio gli esponenti. La seconda soluzione è x uguale a meno 3. È arrivato il momento di andare in palestra, ma la palestra della mente. Dopo aver visto me, ora tocca a te allenarti. Fai pratica con questi esercizi e se hai qualche dubbio, riguarda attentamente il video per non perderti tutti i passaggi. Del resto, imparare il metodo giusto è il segreto alla base del successo in matematica. Allora, com'è andata? Spero che questo video ci sia stato utile e che ti sia anche divertito un po' a fare gli esercizi, così come mi diverto io. Alcuni passano il tempo a giocare ore e ore, videogiochi, giochi all'aria aperta o quant'altro. Io invece gioco con la matematica. Spero di trasmetterti anche un pochino della passione che ho io per questa materia. Io sono Monia Tomassini e come ormai sai, il mio motto è Se non sei ancora bravo in matematica, è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Ci vediamo nella prossima playlist.